Quindicesima giornata del campionato giovanissimi provinciali Under 15 Girone B. Allo stadio comunale di Santa Teresa di Riva si affrontano Ionica e Taormina Socher School. Padroni di casa che si schierano con Paiano, Daveni, Mazzu, Smiroldo, Perdichizzi, Lopresti, Siligato, Buongiorno, Miduri, Pallotta e Lo Giudice. Ospiti che rispondono con Curcuruto, Privitera, Filstad, Intelisano, Cacopardo, Matta, Samperi, Pafumi, Salsa, Schiera e Manuli. Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio che arriva adesso. Calcio d'angolo per il Taormina. Prova in qualche modo a liberare la Ionica. Salsa ci prova e poi Pafumi segna di testa. Si sblocca subito il match. Taormina Socher School avanti con questo colpo di testa di Pafumi dopo la girata di Salsa. Rimessa laterale per il Taormina. Salsa avanza. Cerca ancora Pafumi che entra di rigore. Calcio col destro sul fondo. Pafumi in profondità. Schiera viene trattenuto qui da Mazzu. Calcio di rigore. Calcio di rigore secondo il direttore di gara. Steso Schiera. Dal dischetto va Pafumi che prende la rincorsa. Calcio col destro ed è già 0-2. Pafumi. Doppietta del numero 8. Implacabile dal dischetto. Giro palla qui del Taormina. Filstad va in verticale a cercare Manuli. 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 Calcio col sinistro. Pagliano risponde presente. E poi libera in qualche modo la Ionica. Pafumi. Servito in zona centrale. Vuole fare tutto da solo. Un paio di dribbling. Entra in di rigore. Pafumi col sinistro. Pafumi col sinistro. 0-3. Tripletta del numero 8. Grandissima azione personale. E poi col sinistro. Mette il pallone dentro. Pallotta recupera qui su Privitera. Lancia in profondità per lo giudice. Lo giudice. Curcuruto. In qualche modo interviene. La fa sua. Calcio d'angolo per la Ionica. Si fa vedere Pallotta che prova a liberare il sinistro. Calcia. Sul fondo. Esce di poco. Lancio lungo qui in profondità per Pallotta. Buongiorno. Che può andare tutto solo. Ancora Buongiorno. Avanza. Entra in di rigore. Calcia col destro. E segna. Riapre la partita la Ionica. 1-3. Con questo gol di Buongiorno. Il numero 8. Freddissimo. Davanti il portiere. Fistad. Batte questa punizione. Cerca Pafumi. Posizione regolare. Sinistro di Pafumi. Se lo divora qui il numero 8. Finisce così. Il primo tempo con il risultato di 1-3. Secondo tempo che inizia con dei cambi per la Ionica. Dentro anche in questo caso il numero 13 per i padroni di casa. Con falone. Gestisce centralmente. E lancia in questo caso in profondità Pallotta. Interviene Fistad per l'arbitro. E calcio di rigore. Fallo di Fistad su Pallotta. Dal dischetto. Dal dischetto. Va Buongiorno. Che parte. Va col destro. Spiazza il portiere. E segna il gol del 2-3. Doppietta per Buongiorno. Angolo per il Taormina. Can prova ad arrivarci. Pagliano la fa sua. Lancio lungo qui sul settore di destra per Calcagno. Calcagno avanza. È velocissimo. Prova il tocco sotto. E c'è il pareggio della Ionica con Calcagno. Grandissima corsa di Calcagno. E poi tocco sotto. Batte subito questo calcio di punizione la Ionica. In questo caso Pallotta la mette in mezzo. E Calcagno segna il gol del 4-3. Doppietta di Calcagno. Furbissima in questo caso la Ionica. Si fa trovare pronto Calcagno. Costruzione dal basso per la Ionica. Pagliano attenzione la perde. Delibero tutto solo. Delibero e segna. Arriva il gol del pareggio del Taormina. Ha perso un brutto pallone. Qui la Ionica con Pagliano. E Delibero riconquista e segna. Prova a sfondare qui la Ionica con Santoro. Santoro pallone che finisce a Confalone. Che carica il destro da fuori. Traversa. Cross dalla bandierina. Pagliano libera. Arriva Can. Miracolo di Miduri sulla linea. Pallone che poi torna dalle parti di Darienzo. Traversa. E poi libera in qualche modo la Ionica. Occasione gigante per il Taormina. Prima salva Miduri. E poi traversa di Darienzo. Non c'è più tempo però. Triplice fischio. Termina così. Ionica. Taormina. Social School. Risultato di 4 a 4. Padroni di casa bravi a rimontare dopo lo 0-3. Ionica che sale a quota 27 punti in classifica. E reagisce alla sconfitta della scorsa giornata. Grazie a tutti.